Ciao gamer, oggi è sabato ed è un sabato speciale, perché oggi è il 24 e noi registriamo anche il 24 Siamo in modalità vigilia, pensa che roba, registriamo anche nei festivi, ma cosa, cosa, non siamo Vedrai il 26, in realtà noi lo stiamo registrando il 25 e abbiamo saltato il 24 No, no, lo monteremo il 25 Lo monteremo il 25 qui, casino praticamente E cose belle, quindi Gamer comunque auguri ritardo praticamente Auguri ritardo, sì E niente, oggi registriamo come al solito e abbiamo l'agnog In realtà andiamo sempre nel stesso posto Guarda oggi è sabato, vedete che mi piace Gamer, 4, oddio, oddio, oddio È un gioco figo questo Mi sono distratto un attimo a guardare in camera, dannazione Com'è che si chiama, com'è che si chiama Mobile Legends Mobile Legends Cioè Mai sentito prima Esatto Innovativo Genere a sé stante Sì appunto hanno inventato un genere questi Mi sembra di capire che oltre al Keep it up Proprio hanno inventato un genere mi sembra di capire Keep it up Keep it up Io non dico niente Però Io non dico niente Non dico niente Ok Gamer, allora mentre Leo farà PokeGamers Io voglio provare una cosa nuova Tra ogni tanto io provo dei video nuovi Poi se non mi piacciono non li pubblico Comunque Ci provo Vediamo cosa viene E niente Fondamentalmente mi serve solamente il mio telefono Un microfono Che ho stato attaccato in questo momento E dovrebbe andare bene tutto il resto Proviamo Gamer Antonio sta lavorando all'altra roba Io nel frattempo Sto andando dai cinesi Al magico bazar si chiama Il negozio di cinesi più vicino da noi Che Devo comprare Sì è di là Devo comprare un caricabatterie per il 3ds Perché Il mio è introvabile Nel senso che A casa mia non esiste più E quindi Penso che sia stato mangiato O qualcosa del genere Non vado a prendere quello originale Perché ne voglio uno usb Perché mi dà fastidio avere sempre la presa Quindi Boh Adesso andiamo a vedere Gamer qua io vedo dei mouse da gaming Molto Cioè tipo Scorpion Non so Sto cercando Questo cavo Ma mi sa che Qua sono Vedi qua è roba da gaming professionale Guarda Sì sì Della foiu Della limone Gamer Sono tristissimo Sto cercando di camminare Non uccidermi Qua un attimo I cinesi non ce l'hanno Cioè Hanno I componenti chimici Per fare un reattore nucleare E non hanno Il caricabatterie del 3ds Quindi stiamo andando A un negozio Qua vicino Che è tipo Orrendo da vedere Però È l'unica cosa Che vende Cose Lontanamente tecnologiche Quindi Sì Dovevo prenderlo da qua L'ho trovato È rosa Cioè Non c'erano di altri colori In realtà l'ho preso USB Cioè Potevo tranquillamente Trovarlo dai cinesi Questo coso Però vabbè L'ho trovato USB E questa è la cosa Che mi importava E non c'era nemmeno l'originale Cioè C'era quello con il dock È una cosa inutile il dock Comunque sia Bene Adesso potrò finalmente Finire Sun and Moon Anzi Potrò cominciare Sun and Moon Sono una persona terribile Lo so Sto caricando Poki Gamers E Da questa parte Abbiamo Anto che sta lavorando A un progetto segreto Top secret Che adesso andrò a spoilerare Forse sì Forse no Vediamo quanto posso Ma non so se lo pubblicherò Quindi magari Tieni su le aspettative Quando in realtà Questa Siamo dentro Siamo dentro ragazzi Siamo dentro Guardate signori La frequenza di click al secondo Mi sta muovendo Si sta muovendo Adesso potete andare a vedere Con questo Nick Quante ore ha sprecato su LOL Nel sito che tutti voi conoscete Ok Allora praticamente Guarda guarda Facciamo le incontrature dall'alto Che cosa stai facendo? Dovremmo fare un gamer steeper Non l'abbiamo più fatto Perché Leo voleva giocare a LOL E quindi non siamo più Mi sia Ma non è colpa di LOL Oh No semplicemente L'Eggnog verrà bevuto Non riesce a inquadrare Ok Ecco L'Eggnog verrà bevuto Senza Sì Praticamente Quello che è successo È che Ho voluto provare Questa nuova serie Che non so neanche Se pubblicherò Casomai Che ho ultra ipad Non arriverà niente Non lo so Devo vedere Se supera l'esame di Leo Perché io l'ho montata Adesso gliela mostro Ah giusto Dovrò mettere un voto Sì lui è praticamente Il censore In realtà Non solo di Videoconsol Ma dell'intero YouTube Cioè ogni video Esatto Passa per lui Nessuno di voi Nessuno di voi lo sa però Lui fa questo È uno YouTube Heroes Esatto È finito Un castra colorful in realtà Ma tu sai come si fa Vincere in questo gioco Premi F8 Premi F8 Si vince premendo F8 Anno Ragazzi Guardate l'F8 Si vince così Questo è quando la gente Non ha Non ha gli strumenti Per vincere Antonio sta giocando A uno di quei giochi Da nerd Stratosferici È Command and Conquer Che serve praticamente Una specie Di Starcraft E lo Starcraft dei poveri Antonio sta diventando Un coreano Secondo me E lo Starcraft dei poveri Si che è lo Starcraft dei poveri Allora vediamo le strategie di guerra Non c'è nessuna strategia di guerra Te lo sicuro Sta mandando le moto Tra l'altro c'è da ricordare Come a questo gioco Io lo ari No non ne vale la pena Mi muovo Buonanissimo Buonanissimo Aspetta un secondo Comunque sia Stiamo andando a casa Di amici Mangiamo Tocchiamo Stiamo un pochettino Passiamo un pochettino La cena di prenatale Così E niente Quindi ci si becca dopo Probabilmente non registreremo A casa Le altre persone Esatto Anastrale No Anastrale Distanza dal pianeta Terra Basta con i cattacchi Circa 12 parsec 12 slowpoke Ecco Va bene gamer Direi che abbiamo detto abbastanza Fatto abbastanza Quindi Buon Natale di nuovo E oggi era sabato Questo era sabato In lunedì Ciao Ciao